6 anni fa Ellen MacArthur ha lasciato la vela dopo essere stata una delle più grandi navigatrici della storia, seconda alla Vendée Globe nel 2000-2001 che le diede la notorietà e poi battendo il record del Giro del Mondo in solitaria nel 2005. Adesso Ellen MacArthur si dedica all'ecologia, la sua fondazione si batte contro l'inquinamento degli oceani, i cosiddetti continenti di plastica, perché se non si fa nulla la quantità di bottiglie e altri rifiuti arriverà fino a triplicare entro il 2050, è come se ogni minuto un intero camion Benna riempito di immondizie si rovesciasse in acqua. L'ex skipper è andata a Davos per dire che è ora di voltare la pagina della plastica. Se possiamo adeguare l'intero sistema, se possiamo metterci d'accordo sulla scelta dei materiali discutendo con le persone giuste, presentando le giuste innovazioni tecnologiche, possiamo davvero cambiare completamente l'economia delle materie plastiche. Un obiettivo importante, visto che poi tutta questa plastica si riduce in microparticelle che, mimando le caratteristiche del plankton, entrano nella catena alimentare fino all'uomo. Il messaggio ai leader qui è molto forte, se non si agisce entro il 2050 ci sarà più plastica che pesci nell'acqua.